Mamma mia ragazzi, che Inter, che Inter ragazzi, non mo... Allora, parliamo prima dell'Inter e poi del Napoli ragazzi, perché il Napoli, ma il Napoli... Dell'Inter ragazzi, l'Inter si è giocata la partita, secondo me, nel modo giusto, cioè nel modo giusto Partiamo dal concetto ragazzi, alliello di gioco, ho questa luce rossa porno qua A livello di gioco, il Barcellona ha dominato, però, però raga, cioè che cosa vuoi fare? Vuoi andare a mettere sotto il Barcellona? Avete visto con quale capacità, con quale accuratezza si passano la palla con i calciatori? È una cosa incredibile poi, perché non è una questione di calciatore cresciuto nella cantera, no? È una questione proprio di mentalità che danno ai calciatori quando arrivano lì, pazzesco, pazzesco Suarez ha giocato una gran partita, ma al tempo stesso poco incisivo dentro l'aria Cioè, qualche occasione ce l'ha avuta, non è riuscito ad essere incisivo E se devo dire una cosa, il Barcellona è vero che ha dominato, ma dentro l'aria, raga, poca roba Cioè, poca roba, i pericoli l'Inter li ha corsi, ma non così eccessivi, secondo me In confronto al tipo di gioco che ha sofferto E poi ha fatto una partita che si doveva fare, ragazzi Cioè, la partita col Barcellona è questa qua, purtroppo, per tutti quanti, per tutte le squadre Cioè, a meno che non sia veramente prepotente Ma in questo momento, secondo me, l'Inter ha fatto la partita doveva fare La sua occasione, le sue mezze occasioni ce l'aveva avuta anche prima È arrivata su piedi Riccardi Un rimpallo, eh Cioè, è l'Inter Però, ragazzi, cioè, bisogna arrivarci a 1-0 col Barcellona all'ultimo E riuscire a dare la palla dentro Peraltro, l'Autoaro Martinez, comunque, ha avuto un bel impatto E ha dato la possibilità, mettendo un uomo dentro l'aria Devi creare scompiglio e alla fine il gol lo trovi E bravi, cioè, bravi Perché è meritato il pareggio alla fine per Per il tipo di partita fatta Non perché a livello di gioco l'hanno messi sotto Però, perlomeno questa è come la penso io Col Barcellona, questo è il tipo di gara che devi andare a fare E... Malcom ha segnato Una menzione a Malcom che È entrato dopo due minuti Ha segnato comunque al ragazzo che si vede che ha le capacità Cioè, secondo me la Roma ce l'aveva visto giusto con questo ragazzo Tutto quello che è successo a queste stelle Sinceramente non so perché sta giocando così poco È chiaro che pure Dembélé non è che è scarso, eh Però non lo so se è una questione di mentalità, d'atteggiamento È stato di fatto, è entrato, è appurgato Ma, comunque, il Barcellona c'è un grosso problema senza messi Che tutti questi fantasisti esterni che stanno lì Stanno troppo fuori dall'aria, ragazzi Troppo fuori dall'aria Non entravano mai dentro l'aria E se non entri dentro l'aria non segni con scrignare De Vrij Non segni Passiamo al Napoli, ragazzi La partita del Napoli è una partita Che conferma quello che avevamo visto a Parigi, secondo me Cioè, più o meno il copione è stato simile, no? Cioè, il Paris Saint Germain è che comunque Io vedo a livello di squadra è nettamente inferiore Come inteso come squadra che si muove insieme Come unità rispetto al Napoli È chiaro che poi ci sono dei calciatori che fanno la differenza Calciatori che fanno le differenze perché Cioè, qui stiamo giocando con Bappene Ma non sappiamo manco chi mette dall'altra parte Il Napoli, ragazzi, il Napoli ti entusiasma Cioè, il Napoli ti entusiasma I primi minuti del secondo tempo sono stati Cioè, sono stati veramente arrembanti Ma adesso mi era venuto un paragone quando li guardavo Lo stesso tipo di entusiasmo che mi dava, per esempio, l'Atalanta l'anno scorso di Gasperini Perché sono tutti i calciatori che stanno rendendo 110% E la bravura di Ancelotti rispetto a quella di Sarri È stata quella di convincere i calciatori che quello che facevano con Sarri Contro le piccole della Serie A Lo possono andare a proporre lì col PSG E l'hanno martellata all'inizio del secondo tempo Che ha la certa pure Diago Silva, che è fortissimo Quando arrivano destra-sinistra-destra C'è invece più niente Cioè, è andato boh al tappeto K-O-Technos Ha sdraiato lì Ha sdraiato Gaillon Ha sdraiato Buffon E hanno trovato il pareggio Poi alla fine il risultato, secondo me, del pareggio è giusto Perché il Napoli è un po' calato dopo quella via arrembante Ancelotti stava agitato Perché sapeva che se non avesse pareggiato questa partita Si sarebbe complicato molto, molto, molto il girone È vero che una mano gliel'ha data la Stella Rossa Che ha vinto con il Liverpool E ha tenuto tutti a mucchiare lì C'è un gran mucchione nel girone del Napoli Mentre l'Inter io alla fine penso Che debba veramente suscitarsi per non passare Perché il Tottenham, che comunque ha vinto la partita Dovrebbe vincere con l'Inter, ragazzi Dovrebbe vincere con l'Inter Riprendo la partita Eh sì ragazzi, perché il Tottenham è 4 Insomma dovrebbe vincere con l'Inter E dovrebbe vincere con l'Inter Per essere sicuro con più di un gol di scarto Perché l'Inter ha vinto 2-1 Dovrebbe vincere 2-0 E poi il Tottenham ha la partita con il Barcellona alla fine Mentre l'Inter ha la partita in casa con il PSV Quindi l'Inter tendenzialmente ha la qualificazione in tasca Dipende tutto dall'Inter Mentre insomma al Napoli il giro è un po' più complicato Però era chiaro ragazzi Il giro è un po' più complicato di quello dell'Inter Come avevo pronosticato io Sebbene i tifosi interessi quando avevo detto questa cosa Erano scoppiati Oddio ma che sei matto Il Tottenham è vero che sta deludendo Però insomma non è il Liverpool Non è il Liverpool per quanto mi riguarda Ragazzi spero di avervi detto tutto Fatevi sapere voi che cosa ne pensate di queste due partite Perché giocate, secondo me, approcciate bene tutte e due Tutte e due approcciate bene Certo gli avversari erano quello che erano Due squadroni Ma avete visto? Cioè se uno fa con la mentalità se la può giocare con tutti E questo è stato un po' l'insegnamento della Roma l'anno scorso Se ci credi Se vai convinto Bom 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 Tammureggiante Il gol glielo fai il PSG Un conto Dei Cianemar Mbappé Tugel Buffon Se vai lì Bom 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 Il gol glielo fai Hanno preso il rigore e hanno fatto il gol Questo è il quattro ragazzi Ciao dati e ciao a tutti quanti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.